Musica Sono Raffaele Belli e Nicola Savino ideatori di Shopping Shopping è una piattaforma di social shopping pensata per utenti e commercianti siamo incubati in campagna innovazione e abbiamo vinto un progetto che si chiama Creative Cluster di idee di impresa Shopping permette ai negoziati di inserire offerte sulla vendita dei propri prodotti e di pubblicizzare il proprio negozio contemporaneamente dà la possibilità agli utenti di ricercare offerte e prodotti geolocalizzandosi attraverso delle ricerche affinate come categoria o tipologia di abbigliamento o anche prezzo Shopping però contiene anche un modulo social che noi l'abbiamo pensato proprio per dare la possibilità all'utente di condividere le proprie ricerche condividere i propri negozi e condividere diciamo le amicizie c'è la possibilità quindi di crearsi un proprio mondo che viene chiamato My Shopping dove far confluire tutte le offerte che sono state ricercate e tutte le amicizie che si hanno in comune l'utente quindi cercando l'offerta ha la possibilità di aderire all'offerta e di recarsi al negozio attraverso un GPS di provare il tipo di abbigliamento ricercato e se soddisfatto di acquistare l'abbiamo definita appunto Social Shopping perché pensiamo che sia una piattaforma per continuare a dare il meglio nello shopping tradizionale ma attraverso la nuova tecnologia